Il mio pensiero è anche a caldo, mi auguro per lui che posso essere di vista, non sono decisioni che competono a me, però credo sia un po' esagerato. No, bene, siamo partiti, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene, siamo tutti a disposizione del nuovo allenatore, credo che anche lui possa essere soddisfatto di tutto quello che stiamo facendo, sicuramente siamo ancora un po' stanchi e imballati, però insomma abbiamo tutto il tempo per migliorare la condizione fisica.